Siamo con il professor Accinelli, entomologo, scrittore, trasmette la sua passione per la natura in progetti di eco-narrazione. I suoi interlocutori sono ad esempio le scuole, le aziende, le associazioni e tutte le persone che vogliono raccontare la natura. Vi racconto un po' di lui, è stato selezionato dal Corriere della Sera tra le 20 persone che stanno cambiando l'Italia. Gian Umberto Accinelli unisce quindi alla passione per gli insetti un forte spirito ecologico. Da ormai tre anni racconta anche le sue storie di natura su Radio DJ, è ospita infatti del programma televisivo Bel Tempo si spera su TV 2000 e di Geo & Geo su Rai 3. Recentemente ha vinto il prestigioso premio di letteratura per l'infanzia German Youth Literature Award, il più importante premio europeo per la letteratura per ragazzi. Siamo molto contenti di averla qui con noi a Rossini TV. Professore l'abbiamo chiamata perché nell'incontro che tra l'altro abbiamo anche noi ripreso, che c'è stato il 14 giugno a Padiglione, non c'è stata purtroppo la possibilità di ascoltare il suo intervento. Qual era il messaggio? Era molto semplice, era raccontare l'esigenza, la necessità di un bidigestore. Cioè di un impianto capace di trasformare, di prelevare l'energia ancora contenuta nei rifiuti organici e appunto trasformarla in qualche cosa di utile per la società. Il biometano da una parte per far funzionare sia le nostre automobili sia il nostro riscaldamento e il compost un ammendante fondamentale per l'agricoltura. Ecco, gli impianti di questo tipo sono fondamentali appunto perché rendono i rifiuti una risorsa. Basti pensare alla produzione di compost e del biometano. Come lei sa, le città tra l'altro devono gestire il tema dei rifiuti in generale e anche quelli organici in modo particolare. Oltre a ciò c'è una ragione biologica, la fame energetica dell'uomo. Esistono quindi delle soluzioni? Ne esistono tante, però si parte tutto appunto da una capacità energivora dell'uomo. Cioè l'uomo ha bisogno di tanta energia. Soprattutto perché l'homo sapiens è un gigante. È un gigante particolare perché ha solo un organo gigantesco che è il cervello e che chiede a fame di glucosio e di energia. Ecco perché nel corso della sua storia l'homo sapiens ha dovuto costruire degli ecosistemi artificiali come l'agricoltura, l'agroecosistema e le città. Ambienti artificiali, anche loro energivori che necessitano tanta energia. Ecco perché dobbiamo in qualche modo imparare a prendere l'energia, a ottimizzare l'energia. E quindi possiamo dire che il biodigestore utilizza un processo naturale? Assolutamente. Il biodigestore utilizza la fermentazione, il piantico dei metabolismi degli organismi viventi. Esistono dei batteri e anche dei funghi capaci di digerire le sostanze organiche, ma non di portarle a compimento, ma di trasformare la sostanza organica in biometano e compost. Biometano grazie a una fermentazione anaerobica, cioè in assenza di ossigeno, e invece attraverso un processo aerobico, cioè in presenza di ossigeno, invece si forma il compost. Ecco, ci sono delle criticità invece per quanto riguarda la salute delle persone? Assolutamente no. È vero che da una parte durante la fermentazione si producono delle sostanze dannose, ma queste permangono all'interno e quindi le persone non entrono in contatto con sostanze dannose. Queste sostanze hanno una peculiarità, emettono delle sostanze volatili, cioè degli odori, per dirle in maniera semplici. Odori decisamente sgradevoli, perché ci devono in qualche modo avvertire della potenziale pericolosità della fonte di partenza. Ecco, e non ci sono motivi per pensare che siano dannosi per la salute? Cioè, dovremmo ingerirli e ovviamente non lo facciamo. Questi gas non sono dannosi, sono dannosi a concentrazioni elevatissime, sono sicuramente sgradevoli. Sono l'urea e quello che viene chiamato dei prodotti a base di zolfo, che odorano di uovo marcio. Ecco, e questi odori come vengono gestiti? Vengono trattenuti all'interno del biodigestore. Il biodigestore ha una pressione negativa, cioè è il contrario del palloncino. All'interno di un palloncino gonfiato la pressione è maggiore rispetto a quell'atmosferica, quindi quando lo buchiamo l'aria esce. Ecco, il biodigestore funziona esattamente al contrario. Se lo bucassimo l'aria entrerebbe e questo lo utilizziamo per far fuoriuscire, per eliminare i cattivi odori, il gas di scarico, attraverso un processo attivo. Questo processo attivo prevede il convogliamento di questi gas attraverso dei filtri. Filtri anche loro biologici, sono composti da legno. Sul legno ci sono dei batteri affamati sia da azoto sia di zolfo. Saranno loro che preleveranno queste sostanze, mitigando e annullando i cattivi odori. Ecco, perché gli impianti creano tensione? Sicuramente non per motivi ecologici. Ci sarà, io ovviamente non lo posso sapere, però sicuramente non per motivi ecologici. Professore, abbiamo sentito parlare di una criticità legata alla combustione. Ma la combustione non è un problema anch'esso, è un processo assolutamente ecologico e naturale. Il problema è la combustione di anilide carbonica, ma soprattutto di carbonio fossile, perché quello interagisce col ciclo del carbonio e aumenta la CO2. Ma la combustione in sé non è assolutamente un problema. Lo facciamo noi regolarmente quando respiriamo. Per intenderci, sono pericolosi i camion che trasportano la sostanza organica dalle marche ad altre regioni del nord Italia, piuttosto che la combustione in sé.